Per la seconda volta in un anno, l'Università d'Annunzio segna il titolo di membro onorario del corpo accademico con una cerimonia che si è svolta a Chieti nel Palazzetto dei Veneziani. Dopo lo scrittore spagnolo Javier Sercas e il poeta e docente Paul Maldun a ricevere il prestigioso titolo dell'Ateneo. L'attribuzione dell'onorificenza è stata promossa e sostenuta dalla Scuola di Studi Umanistici della D'Annunzio, presieduta dal professor Pietro Domenicucci e dai due dipartimenti che la compongono, quello di lettere, arti e scienze sociali diretto dal professor Stefano Trinchese e quello di lingue, letterature e culture moderne diretto dal professor Ugo Perolino. Di origini irlandesi, Paul Maldun è considerato uno dei massimi poeti di lingua inglese, autore di numerose raccolte diversi antologizzate in italiano da Mondadori nel 2008. All'attività poetica ha affiancato quella di critico, traduttore e narratore, pubblicando saggi critici, libretti, canzoni rock, libri per bambini e traducendo in inglese le opere di diversi poeti irlandesi. Tra i suoi ultimi lavori c'è la cura del volume The Lyrics, edito da Boor, nel quale, insieme a Paul McCartney, ripercorre genesi e storia di 156 testi dei Beatles. Insegnito di prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra i quali il Jeffrey Faber Memorial Prize e il Pulitzer per la poesia nel 2003, in Abruzzo, ha ricevuto il premio di poesia Città di Pescara Sinestetica 2024. Cosa significa per la sua carriera un riconoscimento come quello che arriva dall'Università d'Annunzio? Sì, lui è stato un insegnante per tanto tempo durante la sua vita, quindi ricevere questa onorificenza è importante e sta pensando anche di venire a insegnare qui qualche volta. Con questo nuovo conferimento l'Università d'Annunzio conferma e concretizza un'attenzione speciale alla cultura e all'internazionalizzazione, annoverando tra le proprie fila personaggi prestigiosi proprio come il professor Maldun, ha dichiarato il rettore dell'Università d'Annunzio, Liborio Stuppia. Noi stiamo facendo un percorso di rilancio della cultura. L'Università deve essere un volano per la cultura, per la diffusione della cultura e già la seconda onorificenza di questo tipo che diamo, la prima era stata lo scrittore spagnolo Serkas e oggi ha questo straordinario poeta irlandese Maldun e vuol dire soprattutto muoverci a livello internazionale, quindi portare a Chieti ancora una volta un personaggio importante di statura internazionale e permettere quindi anche alla cittadinanza di entrare in contatto diretto con persone di questa levatura.